ciao ciao registrazione è molto importante perché si parla oggi di brand image e di packaging cioè quindi due cose che sono diciamo complementare fra di loro ma sono due cose differenti voglio spiegare perché una è funzionale all'altra e che cos'è esattamente la brand image la brand image è sono quegli elementi che vanno dal reputazione del brand al valore fino arrivare al posizionamento stesso della corporate image dell'azienda e per poi appunto andare a sviluppare e perché andare a sviluppare sul packaging e da qui nasce il discorso appunto anche del packaging positioning packaging positioning e di posizionamento sembra parlato del fatto che il nel face nel fronte in tutto lo sviluppo grafico di comunicazione della confezione si deve parlare di quello che è il prodotto la peculiarità del prodotto fino arrivare al posizionamento del prodotto stesso però dobbiamo essere consapevoli e sapere che la brand image va portata anche sulla confezione quindi quando si va a fare il cosiddetto packaging positioning bisogna tenere e sapere e tenere in considerazione tutte queste cose perché perché se no non è funzionale al allo scopo ad arrivare al all'utente al consumatore. Esempio no perché bisogna fare questo? Per il semplice motivo che la confezione esempio prendiamo una confezione di biscotti lo compriamo in scaffale però tutte le mattine noi questa confezione di biscotti mentre andiamo a degustare appunto il prodotto biscotto andiamo a a leggere per uno due tre quattro persone del nucleo familiare questo brand questa marca e deve trasmettere tutti gli elementi che abbiamo detto prima sia per il prodotto sia per la brand image. Attenzione sono cambiate due cose negli ultimi 30 anni di cui una è cambiata nell'ultimo decennio e una cambiata diciamo 30 40 anni fa. Cosa succedeva? Succedeva che l'azienda andava dall'agenzia 30 anni fa 40 anni fa appunto per andare a sviluppare la brand image quindi partiva da quello che era appunto l'immagine aziendale l'immagine quello che doveva trasmettere come valore come reputazione come anche il posizionamento per poi andarlo declinare su quello che era l'immagine appunto coordinata spesso andare in televisione piuttosto che sulla carta stampata quindi sto parlando di affissione piuttosto che circuito urbano per comunicare appunto tutto questo. Oggi il business plan di un'azienda è spalmato in maniera completamente diversa perché quei costi lì non vanno più a finire su quei canali su quei mezzi ma vanno a finire almeno il 50 se non di più tutto sul discorso web perché sappiamo perfettamente che non puoi esimerti da non comunicare e avere il tuo posizionamento di marca di brand su quello che è il tuo mondo del web marketing internet e quant'altro ma la maggior parte di aziende quelle brave quelle talentuose quelle che hanno compreso effettivamente il valore del packaging li investono anche appunto sulla confezione perché hanno perfettamente capito che la prima forma di remarket per un'azienda di prodotti è la confezione. Quindi se 30 anni fa lo sviluppo di immagine coordinata della confezione lo faceva o lo studio grafico dietro casa non l'agenzia o la tipografia barra cartotecnica che stampava anche il packaging o addirittura la figlia del titolare che si divertiva a fare anche la grafica in azienda oggi non è più così. Oggi addirittura con e questo è cambiato negli ultimi 10 anni con l'arrivo del packaging positioning ci sono tantissimi casi studio che partono appunto dal master dal packaging positioning del posizionamento di prodotto che è declinato già sulla brand image ok perché noi più di un caso studio all'interno della packaging è partito con un posizionamento di prodotto dove poi noi abbiamo rivisitato anche il restyling del logo dell'azienda se non fatto un logo nuovo proprio per motivi di posizionamento sbagliato a monte. Quindi è un discorso assolutamente controintuitivo e rovesciato rispetto a 30 anni fa. Oggi il packaging è diventato una forma di comunicazione talmente tanto fondamentale e importante per un'azienda che dal packaging master, dal packaging positioning si va a declinare tutta la brand image. Quindi ricordatevi che non esiste un prodotto di qualità senza che il packaging stesso trasmetta la qualità del prodotto aggiungo senza che si trasmetta anche il posizionamento e tutti i valori della tua brand image. A presto.